Il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, progettato dall'architetto Giuseppe Damiani Almeida, è un armonioso e imponente edificio che domina con la sua elegante struttura circolare una delle piazze più belle e vivaci della città. La sua costruzione inizia nel 1867, quasi contemporaneamente alla realizzazione del Teatro Massimo e si conclude nel 1891. Il Teatro, che fu dedicato a Garibaldi dopo la sua morte avvenuta nel 1882, acquistò l'aspetto attuale nel 1891 in occasione della grande esposizione nazionale che si tenne quell'anno a Palermo, di cui il Politeama era uno dei poli d'attrazione più interessanti. Grazie a tutti.